Benvenuti al meteo. In Veneto, per domenica 25 luglio, il tempo sarà incerto e molto variabile, specie sulle zone montane e pedemontane, dove non mancheranno rovesci. Minime dai 19 gradi di Belluno, massime fino ai 36 gradi di Rovigo. Per lo più nuvoloso anche in Friuli Venezia Giulia. Temporali sono previsti tra Udine e Pordenone e nella fascia alpina. Temperature minime intorno ai 19, massime fino ai 32 gradi. Mare da calmo a poco mosso. Tempo instabile anche in Trentino Alto Adige, dove si prevedono temporali e rovesci soprattutto nella fascia meridionale. Temperature minime da 19 gradi, le massime invece potranno toccare i 33 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Grazie.